il vero segreto e poi riesce a guardare il portiere e la mette sopra, vabbè, è quasi facile per lui vista le sue caratteristiche tecniche fare questo pallonello ma quello che fa prima, ecco no Ilaria, quello che fa prima, cioè lo stop lo stop perfetto per non avere più problemi nel controllo della palla e guardare il portiere questo è il grande centrocampista bellissimo, veramente, ma quello è fatto?